Nuovo colpo al clan Fabrocino, il comando provinciale della Guardia di Finanza di Salerno ha proceduto all'esecuzione di due decreti di sequestro. I destinatari dei provvedimenti sono Francesco Antonio Fabrocino, nipote di Mario, e Antonio Piccirillo. Quest'ultimo presta nome del primo, entrambi pluripregiudicati e già sottoposti a misure cautelari. Come è noto, il clan Fabrocino costituisce una delle organizzazioni criminali di maggiore tradizione della regione Campania, già orbitante nella famiglia napoletana di Cosa Nostra, ha successivamente operato nell'area compresa tra il Nolano e il Vesuviano, ma anche nel Cilento, svolgendo numerose attività illecite, tra le quali il traffico di stupefacenti, estorsioni e omicidi. Si tratta di una organizzazione criminale con spiccata vocazione imprenditoriale. Questa volta le indagini hanno consentito di accertare l'esistenza di sofisticati meccanismi elaborati al fine di occultare la diretta titolarità delle ricchezze accumulate grazie alle attività illecite svolte dal clan, mediante il ricorso all'intestazione fittizia di quote societarie ed immobili ad otto prestanome. Le società sequestrate, attive tutte sul territorio della provincia di Salerno, operano nel settore immobiliare e della grande distribuzione di noti marchi di prodotti alimentari. Alla base dei provvedimenti di sequestro, oltre alla notevole sproporzione tra i redditi dichiarati e le ricchezze riconducibili ai due destinatari, vi è la propensione a delinquere di entrambi i pluripregiudicati. Alla fine delle indagini sono stati sequestrati nove complessi aziendali, 53 appartamenti, 4 villini, 17 garage, 8 appezzamenti di terreno e 16 partecipazioni in società di capitale per un valore complessivo di 13 milioni di euro. Le attività investigative svolte, oltre a ribadire l'impegno della Procura della Repubblica di Salerno nel settore del contrasto alle accumulazioni patrimoniali illecite, evidenzia l'attenzione che viene costantemente posta nel monitoraggio delle zone del Cilento. Le possibilità di investimento nel settore del turismo rendono quel territorio particolarmente esposto a infiltrazioni di organizzazioni criminali di varia provenienza, non solo campana, ed espongono l'intera area cilentana alla presenza mafiosa capace di incidere significativamente su quel tessuto economico ed imprenditoriale che ha portato, specie negli ultimi anni, alla valorizzazione dell'intera area, esponendola a pesanti rischi sia per quanto concerne la tenuta dell'assetto sociale che di quello economico, fondato sul rigoroso rispetto delle norme ambientali.